Pesaro guarda al futuro e si appresta ad accogliere una nuova piazza. L'assessore al fare Riccardo Pozzi ha presentato un progetto esecutivo da 500.000 euro per la ripalificazione di piazzale d'annunzio, un luogo parecchio affollato nei mesi estivi e già famoso per via del casco di Valentino Rossi. Parliamo di un progetto importante, ben accolto dalle attività commerciali che gravitano nella zona e soprattutto utile a migliorare il lato levante di Viale Trieste. Un primo vero grande intervento concreto sul lungomare che sarà poi oggetto anche di un bando di progettazione per riqualificare tutto l'intero lungomare ma che vede proprio partire con un intervento già quest'estate su piazza d'annunzio. Piazza d'annunzio è una piazza veramente sul mare dove in questi ultimi anni abbiamo cercato di rendere sempre più vivace e attrattivo in particolare tutto il lato della camminata dalla palla di pomodoro verso Fano, verso Sud e che ha visto anche con il casco tanti curiosi vivere quel piazzale, utilizzarlo per selfie quindi diciamo immortalarsi di fronte a uno dei simboli dei più grandi campioni del mondo della storia del motociclismo il più grande campione del mondo della storia del motociclismo e invece con questo intervento andremo a realizzare una vera e propria riqualificazione con il verde, la parte destinata al verde che passerà dal 2% attuale a quasi il 30% andremo a dare tanto spazio alle persone quindi andremo a ridisegnare di fatto quello che è il tracciato stradale cercando di privilegiare luoghi di aggregazione delle persone quindi con una piazza che potrà essere poi vissuta anche per momenti di socialità e quindi con un'attenzione come dicevo importante per il verde, per un arredo urbano nuovo e quindi una riqualificazione che poi porterà ad avere una nuova piazza, un nuovo luogo per gli eventi per le iniziative che si sviluppa poi a pochi passi dal mare l'inizio dei lavori è previsto ad aprile e dureranno circa 3 mesi le operazioni che riguardano piazzale d'annunzio saranno divise in due step la prima fase sarà di tipo strutturale e la seconda completamente dedicata alla parte estetica dopo la pubblicazione dell'avviso hanno manifestato interesse a questo intervento circa 100 imprese oggi è andato in scena il sorteggio e solo 8 ditte avranno accesso alla fase successiva quella che precede l'assegnazione e affidamento dei lavori la zona mare e non solo, l'assessore al fare Riccardo Pozzi ha ricordato che sono in programma altri interventi importanti per la città di Pesaro sono davvero tanti i progetti che sono già in corso, i cui lavori sono in corso in queste settimane a breve andremo a terminare il cantiere su Casa Rossini abbiamo un altro cantiere importantissimo strategico per la città, per la viabilità della città che partirà proprio nelle prossime settimane che è quello del cavalcaferrovia quindi il cavalcaferrovia di sabato, un intervento quello atteso da tanti pesaresi che poi porterà a riaprire la circolazione sulle quattro corsie